Ciao a tutti, mi chiamo Yi Yang, sono una fumetista e illustratrice, lavoro qua in Italia, inizia da 2016. Per questo settembre io farò una mia mostra personale appartiene del Milano Design Week, prodotta da Contemporary Asia. La mostra si crea a base su del mio nuovo fumetto pubblicato con Bob Publishing, Easy Breezy. La storia di Easy Breezy si considera come una fiaba metropolitana, uno soft crime e road movie. I due protagonisti, completamente diversi due ragazzi, si trovano in mezzo a un caso criminale, da lì si inizia tutto il viaggio. Nella mostra trovate delle mie tavole originali e delle stampe. Anch'io sarò dalla mia mostra il 5 settembre. Se vi interessate, se siete curiosi, venite a trovarmi, io rispondo a qualsiasi domanda che trovate. Non vedo l'ora di raccontarvi ancora di più di questa opera. Ti aspettiamo, ciao!